Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, raggiunge il podio e prende la parola. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie per questa accoglienza, grazie ovviamente al Presidente Fedriga, al Sindaco Ciriani, al Ministro Fitto, al Ministro Ciriani, grazie ai membri del Governo, ai parlamentari presenti, a tutti i sindaci, grazie alle autorità, anche civili, militari, religiose, grazie alle donne che sono presenti, auguri a tutte le donne di questa nazione, le cui pari libertà. Continueremo a lavorare per costruire, insomma, uno dei dati che mi ha reso più fiera di quest'anno riguarda, tra i tanti dati incoraggianti in tema di occupazione, proprio l'aumento dell'occupazione femminile. È una grande sfida e sono fiera del fatto che questo Governo abbia concentrato le proprie risorse proprio sul tema delle mamme lavoratrici, per costruire quella vera libertà che è data dal non dover scegliere, tra forme di realizzazione diverse, ma perfettamente compatibili dal mio punto di vista, cioè quella della maternità e quella di avere una propria carriera. Quindi questo è il grande augurio che faccio alle donne italiane, poter vedere garantite sempre di più le loro pari libertà.